Signor Franco, oggi lei è qui per un giorno molto particolare, ma a questo si aggiunge un ulteriore momento di dispiacere. Perché? Siamo arrivati qui al cimitero di Rosciano, dove ho portato mia madre che questa sera ho fatto i funerali e al momento di metterla nell'oculo che ho comprato regolarmente in comune, la cassa non entra dentro. La cassa è una cassa normale, standard, non ha niente a che vedere con un'extra roba del genere, addirittura anche gli addetti alle pompe funibri garantiscono che la cosa è così normale, però non entra e quindi per far entrare questa cassa nell'oculo dobbiamo togliere le mustrine, una cosa che nel 2017 non dovrebbe neanche esistere. Non è che il loculo è vecchio, sono loculi appena fatti, ancora non c'è entrato nessun cadavere, nessun morto. Quindi vedere certe cose e pensare che gente prende fior di quattrini per fare queste opere, allora devo dire io nel mio lavoro se sbaglio pago e voglio che questa gente perlomeno capisca dove ha sbagliato. Perché certi depositi non è che le regalano, però vedere adesso che non si entra per 3 cm dentro un loculo ti fa più male ancora. Non è sicuramente il muratore poverino che ha fatto l'opera con tanto di disegno, qualcuno sopra. E questi qualcuno sopra che controllino, che vadano sui posti, è mai possibile nel 2017 trovare dei loculi più stretti del normale. Perché anche se lì mi tolgono, sicuramente mi tolgono la mostrina, entrano nella cassa, rimettono dentro, ma tutti noi, tutti, ripagheremo. Perché queste opere qui non è vero che il muratore viene gratuitamente lì dentro a fare, non lo pagherò io direttamente, però nella cotillività con le tasse che pagheremo ci siamo dentro. Voglio andare a fondo su questa storia perché non mi sta assolutamente bene. Perché fare, o perlomeno quando mi dicevano che siccome fanno dei fuori misura più a fondo, cioè in fondo a questa fila, poi siccome non ci stavano, cercano di mangiare sugli altri, quindi ne fanno uno più stretto, uno più grande. Ma dimmelo prima, io mi sopprò anche adeguare la cosa. Ti dico, il cimitero nuovo, cioè loculi nuovi appena fatti, mai entrato nessuno che già trovi queste difficoltà, è assurdo. Una cosa proprio dall'altro mondo, nel 2017 non c'è da credere.